Sono ben 5 le interpellanze presentate dal Movimento 5 Stelle per il prossimo Consiglio Comunale di Verbagna. La prima riguarda il porto Palatucci, come già fatto da comunità VB. I pentastellati chiedono come mai non siano stati ancora rimossi detriti che rovinano la vista della zona di fronte a Villa Taranto. Il Movimento 5 Stelle chiede anche come mai non sia stato aggiornato il sito internet comunale con lo stato delle acque potabili e in particolare i risultati delle analisi sull'acqua calda della zona dell'ex acetati. Chiedono anche novità sull'istituzione del baratto civico per chi non può pagare le tasse ed è disposto a dedicare ore del proprio tempo alla manutenzione e pulizia della città. Era una proposta che era già stata approvata un anno fa dal Consiglio Comunale ma che ancora non ha trovato attuazione. I 5 Stelle, come già avvenuto in altri comuni, chiedono poi che i bambini non vaccinati continuino a frequentare la scuola dato che ormai è stata raggiunta la soglia di copertura di sicurezza del 95% in Piemonte. Ultimo argomento riguarderà le mense scolastiche.